Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata della Computer Museo Oggi sono qui in diretta per spiegare che c'è una nuova sezione che è un computer interattivo e cioè che voi potrete smontarlo direttamente dal mio sito della Computer Museo Sotto alle immagini che stanno adesso seguendo c'è scritto il link dove andare e poi lo scriverò anche in descrizione e viene spiegato ai miei dettagli ogni oggetto che c'è in questo computer Grazie a tutti per questa visualizzazione del video ultra piccolo Ci vediamo alla prossima puntata del Computer Museo